Ciao, io sono Giovanni Usai, vengo dal Tempio Pausania, in Sardegna, Italia. Di lavoro faccio il funzionario in comune, mi occupo di turismo, di rigenerazione urbana, comunicazione, di progetti europei, Erasmus, eccetera. Sono qui perché naturalmente volevo vivere un'esperienza in un Erasmus con l'idea di poter stabilire dei nuovi contatti per nuovi progetti. Quindi sono qui anche per questo, non soltanto. Io ho realizzato questa ape, almeno sembra un'ape, ma è un'ape ceronte, che è praticamente l'incrocio tra un'ape e un rinoceronte. Durante il lavoro realizzativo ho riflettuto sul destino delle api e sul fatto che noi dovremmo tenerne più conto nel nostro agire quotidiano. Quindi può essere anche una minaccia questa qua, questa allebriche potrebbe diventare, se non si estinguono le api, una allebriche reale e quindi significa che non avremo più pace in questa terra con la natura. Vi ringrazio moltissimo e a dopo.